Giungendo ad Odia e proseguendo per via Bregata Sassari si incontra un oasi, è l'oasi della pelle. L'oasi della pelle non è solo un negozio che vende pelle, è il posto dove scegliere a prezzi imbattibili la vostra pelliccia, il vostro montone o il capo in pelle. Perché oasi della pelle è il produttore diretto dalla prima all'ultima fase. All'oasi troverete veri esperti del settore che saranno al vostro servizio per qualsiasi consiglio. L'oasi della pelle, giubbotti in pelle, montoni shirling, pellice, per scaldare l'inverno anche con gli occhi.